io ci credo tu? un'idea che con tenace ambizione viene traslata nella realtà cambiando le cose per sempre ognuno può essere bandiera di se stesso emblema della propria vice ognuno di noi potenzialmente può cambiare le cose persone incredibili hanno costruito imperi con la forza della mente credendoci e tu tu chi sei per non crederci